ciao ragazzi sono simon88 e lui è Filippo allora Filippo in questo video cosa facciamo vedere il lego city è il nostro camper che andremo a montare vero Filippo allora spero che i video della lego vi piacciono perché andremo a montare questo camper facciamo vedere dietro cosa sono qua qua si può mettere il bambino e la mamma fai vedere i personaggi che ci sono dentro allora il papà il bambino e la mamma ecco facciamo vedere qua così la vedete allora adesso questo è il retro della nostra scatola allora adesso apriamo la scatola aspetta l'apro io perché così così trovo così vediamo se non escono i pezzi penso che sarà dove tu sa te qua qua c'è una linguetta per aprire ok allora abbiamo abbiamo un po di scatole ragazzi questi sono sfusi poi abbiamo gli adesivi adesivi e poi abbiamo il tuo petto sfuso e qua abbiamo il nostro libricino ragazzi allora qua abbiamo il nostro libricino facciamo vedere un po di cose qua allora vediamo come si inizia numero 1 numero 2 numero 3 numero 4 allora si inizia praticamente con la base aspetta andiamo se riusciamo a vedere vedervi ragazzi allora queste sono i primi fasi di montaggio che poi si inizia così allora ragazzi noi monteremo un po di cose e dopo vi faremo vedere quale abbiamo montato adesso facciamo vedere un po di cose stoppiamo un attimo il video e vi facciamo vedere un po di cose allora ragazzi abbiamo montato la prima base quali è tra pure fai vedere che questa praticamente i personaggi li facciamo per ultimi questa è la base che abbiamo montato sarebbero le base per poi metterci le ruote allora noi stoppiamo ancora e ci vediamo quando abbiamo montato altri pezzi ok dai pippo fai vedere cosa gli ho montato allora qua allora siamo arrivati alla figura numero 21 ragazzi avete visto quanto sarà questo è il risultato che abbiamo montato nel nostro camper che sta venendo fuori una bellezza vedete qua c'è il rimorchio qua sta venendo già un bel pezzettone sotto è così facciamo vedere sotto è praticamente doveva venire così è e noi siamo arrivati a questo punto qua del montaggio adesso ci fanno montare vediamo cosa ci fanno montare qua i pezzi dell'interno ragazzi pezzi dell'interno allora noi continuiamo e man mano che montiamo alcuni pezzi li facciamo vedere dai montiamo allora abbiamo abbiamo buttato la barba e il pittolo e il biberoni e la padella fai vedere Filippo la brioche poi i tappe e poi anche il papà allora ve li faccio vedere bene perché Filippo ve li ha fatti vedere un po' da lontano allora questo è il papà con il suo pittolo e questa è la brioche questa è la brioche questa è la padella questa è la padella con dentro il suo uovo tiravi la mano che se no non vedono la padella con il suo uovo e questo la barba con il pittolo e il biberoni aspetta facciamo vedere bene dai così lo vedono bene guardate qua è la mamma con il piccolino nel marsupio con il biberon e qua facciamo vedere questo qua qua ci sono il tavolo dentro poi quello che ho messo sotto qua abbiamo il tavolo dentro con la ciambella e la fragola poi abbiamo qua la coca cola e la tazza e poi qua un'altra tazza qua abbiamo messo il volante e questo è il primo sacchetto adesso andremo a montare il secondo sacchetto che si inizieranno praticamente vediamo qua allora dalla figura aspettate vi faccio vedere da qui da qui ragazzi da qui abbiamo ancora tutto questo maloppone da montare vedete tutto queste maloppone si lì facciamo vedere anche loro così sanno dove cosa devono montare quindi qua abbiamo ancora tante pagine praticamente dovrà venire il risultato così allora ragazzi un'altra pausa e vi facciamo vedere quella che poi vi facciamo vedere quella che abbiamo montato vero Filippo si dai montiamo allora questo è il punto in cui siamo arrivati dal montaggio che poi si può aprire si si apre lo sportello praticamente per il nostro camper qui abbiamo attaccato lo sportello poi le nostre luci e le porte e le porte ragazzi guardate qua che si aprono faccio vedere più vicino da vicino vedi che si aprono adesso mancherebbe l'ultimo step che praticamente mancherebbe il tetto e le ruote no Filippo mancano le ruote anche ma manca tutto il tutto lo step qua sopra e questi sono gli unici pezzi che ci sono rimasti praticamente questo praticamente sono rimaste pochissime pagine allora Filippo adesso non lo finiamo vero dopo lo facciamo vedere completo e facciamo una panoramica di come è venuto e poi voi dite se vi è piaciuto questo camper perché poi se vi piacciono ne porteremo altri quindi dai adesso lo finiamo e poi vi facciamo vedere allora abbiamo finito di montarlo vero Filippo si e facciamo vedere il nostro bel camper guardate che bello si apre anche lo sportello dai a vedere che si staccano quei pezzi lo attacchiamo e qua poi si può staccare questo si può staccare aspetta adesso facciamo vedere guarda qua abbiamo tutto il muso davanti qua abbiamo gli specchietti le luci le luci posteriori aspetta poi facciamo vedere guarda che si può aprire lo sportello ragazzi tutto so vedere guardate qua dentro c'è tutto il mangiare si può mettere si possono mettere i personaggi qua abbiamo i personaggi di prima e questo è il nostro camper molto ti piace Filippo? ti piace? si allora ci abbiamo messo un po' a montarlo non è molto difficile quindi è adatto per tutti i bambini e questo è il nostro camper allora adesso faremo una panoramica così vi facciamo vedere meglio il dettaglio dai allora ragazzi Filippo ti è piaciuto montare questo camper? si tantissimo? si allora guardiamo qua questo camper guardate qua nel dettaglio che lo vedete meglio scusate la mia mano allora qua sto facendo vedere il nostro camper della lego apri lo sportello Filippo vedi allora dentro facciamo vedere cosa c'è dentro c'è la totola me lo pensare in tazzello dove si segnano la mazzaglia ok qua si apri lo sportello poi qua abbiamo i nostri personaggi abbiamo qua la brioche qua abbiamo le dove si cucina la mamma il pittolo i biberolli il papà e la vattolacica e dai ragazzi molto molto bello a Filippo questo camper della lego piace tutto piace tanto scusate fai vedere la scatola com'è? questa è la nostra scatola ragazzi la mettiamo qua dietro guardate che bello lego city allora ragazzi con questa bellissima panoramica di questo lego city del nostro camper io e Filippo vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video Filippo? si dai saluta Filippo ciao 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 ragazzi a una prossima recensione di un video ciao